Sempre più incisivo è il controllo del territorio battipagliese. Anche nella giornata di oggi si è svolta l'operazione Action Day da parte della Polizia Municipale di Battipaglia, agli ordini del comandante Gerardo Iuliano. Sono stati fermati 15 extracomunitari di località Spineta, pronti per iniziare il loro lavoro di 22 ambulanti in spiaggia. L'operazione ha coinvolto 6 agenti della Polizia Municipale e 8 agenti della Polizia di Stato. Gli inquirenti hanno subito provveduto alle verifiche per identificare i fermati. Inoltre è stata sequestrata tutta la merce. È la seconda operazione che viene effettuata in ossegue di un'ordinanza del questore. Solo dopo la fotosegnaletica e la comparizione AFIS si potrà stabilire se sono regolari o senza permesso di soggiorno. La Polizia Municipale del comandante Iuliano è inoltre predisposto, in conformità del decreto Minniti, una nuova ordinanza antiprostituzione interessante alla SP 175 Litoranea, onde debbellare o almeno limitare l'annoso fenomeno della prostituzione. L'ordinanza dopo l'occhè della Prefettura sarà subito adottata. La sanzione combinata ai trasgressori è pari a Euro 500. Di conseguenza saranno implementati i controlli da parte della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine. Grazie a tutti.